L'estate 2022 all'insegna del ritorno alla normalità. Dopo due anni di ansie e paure a causa dell'epidemia da coronavirus, quest'anno abbiamo messo da parte le precauzioni e ci siamo concessi le tanto agognate vacanze. Poche cautele, convivenze in promiscuità, concerti, cinema, piazze gremite, pochissimi controlli, poche file per i tamponi. Il virus però continua a circolare ed è bene sempre fare un richiamo alla prudenza e alla responsabilità, soprattutto in presenza di grandi aggregazioni e ricordiamo che è possibile effettuare la quarta dose soprattutto agli over 60 e alle persone fragili per evitare le conseguenze più gravi della malattia. Queste sono le avvertenze del direttore prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza a commento dei dati del monitoraggio settimanale sul covid-19. Infatti prosegue Rezza, continua a diminuire il tasso di incidenza dei casi di covid-19 nel nostro paese e l'incidenza questa settimana raggiunge i 365 casi per 100.000 abitanti. Anche l'R con T mostra una tendenza alla discesa e siamo oramai a 0,81, quindi ben al di sotto dell'unità. Il tasso di occupazione dei posti in area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 13 e al 3,2%, quindi non si assiste ad alcuna congestione delle strutture sanitarie. In Sardegna il numero dei contagi rimane stazionario. Dall'ultimo aggiornamento si registrano due decessi e 715 nuovi casi. Le persone attualmente positive sono 18.803, la maggior parte in isolamento domiciliare, quindi prudenza.